Vi ricordate quando vi diciamo che abbiamo un'abilità in atta nei baggari giochi? Eccoci, siamo riusciti di nuovo! Applauso! E ragazzi, come va? Io sono Fereniki! E io sono Steph! E questo è Giocchema The Sims 4! E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno, che per oggi sono Giulia! Alex007, Asia, Maria, Sans The Skeleton e Soulkilled! Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione e siamo pronti ad aprire il nostro ristorante! Guarda come felice è Diana e guarda come felice è Stereniki perché è arrivato il grande giorno! Allora, sono le 8 e 20 del mattino, secondo te a che ora ci conviene aprire? Perché è la prima decisione da prendere? Mezzogiorno! Mezzogiorno! Mezzogiorno e mezza dai perché... Addirittura! Secondo me è troppo tardi, scusami, perché comunque tu devi fare le storie dei clienti... Io direi 11 e mezzo! Poi noi siamo una tavola calda, le tavole calde danno anche le bevande, quindi magari uno viene e si prende un caffè... Esattamente, brava, brava, mi hai capito subito! Assolutamente! Allora, prima di tutto, visto che dobbiamo far passare un po' di tempo, magari mettiamo qualche tavolino per l'inaugurazione, qualcosina di bellino? Certo, assolutamente! Ok, le è piaciuta la mia idea, meno male! Apriamo! È certo che mi piace a me mettere le decorazioni, ma lo sai che mi piace il sacco! Ok! Allora, qua ci sono tutte le cose nuove del ristorante, giusto? Sì, infatti non c'è una cepa di utile per l'inaugurazione! Magari qualcosa di festivo, no? Puoi mettere qualcosa? Sì, allora... Scusa, ma non hanno pensato a metterci niente per un'inaugurazione, ma dai! No, no, mi dispiace, non criticare, stiamo calmi! Non sono arrabbiata! Sei arrabbiata, molto! Voglio i tavoli carini da buffet, le cose carine! Sai cosa ti metto? In mezzo alla stanza? Allora, ascoltami! Magari c'è un'emergenza! Ascoltami! Il cliente potrebbe apprezzare che tu eri pronto alla sua emergenza! Sei una persona terribile, non sapresti mai gestire un ristorante! Lo so, infatti ci sei tu qua al mio fianco per farmi fallire ancora prima! Oh, l'ho fregata! Oggi ti faccio fuori! Stavi già ringraziando e dicendo, oh, per fortuna, mette che sono brava! Stai dicendo, meno male che ci sono io, perché tu faresti fallire tutto! Però questa cosa a tua non mi è piaciuta molto! Comunque, andiamo nelle decorazioni! Io direi, queste foto belle! Sono queste delle classiche, tutte le persone famose che sono venute qua, capito? Che hanno mangiato! Il famosissimo signore con i baffetti! Non si sa come, poi è il primo giorno che apriamo, ma queste persone hanno già mangiato qui! Probabilmente un fotografo ci ha voluto lasciare le sue opere! Ok, mi piace! Ascoltami un attimo, che te lo sto cercando di dire da due ore! Ok! Cerchiamo qualche decorazione, perché se non ricordo male, ci sono anche dei festoni! Non c'entrano niente con gli oggetti dal ristorante, ma noi li mettiamo allo stesso! Per festeggiare l'inaugurazione! Festoni! No, non si chiamano! Vedi, tu metto festoni! Allora, vai direttamente in decorazioni! In festa! In festa, sì, dai! Festa in... Cosa ci può? Tavoli decorativi! Che cos'è? Un cubo! Cosa cosa cosa? È bruttissimo! Credo che sia per la discoteca! Sì! Vero? Che bruttissimo! Ah, ma per festa intende discoteca? No, ascolta! Metti un attimino! Tavoli generici! Ma se mettiamo un cubo con una bella ragazza, magari attira un po' di più! No? Oggi si è scatenando! No, basta, basta! Si è scatenando! Basta, dai! Storniamo seri! Nelle tue dicerie! Allora, un bel tavolo! Tavolo, guarda! Questo, 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 questo! Questo? Tavolo festivo! È perfetto, no? Certo che va bene! No, gli altri mi sembrano un po' troppo eleganti, io vorrei mettere qualcosa... Oh, che bellino! Ok, allora, io questo tavolino non so cosa sia, l'ho messo perché mi è ispirato, poi c'è questo qua dove possiamo mettere la fontana della Gagliezza! Sì, l'abbiamo dovuto cambiare perché nel tavolino da festa con le stelline che era così carino non potevamo mettere la fontana per il buffet! È bellissimo, è bellissimo! E poi abbiamo messo un po' di decorazioni anche in cucina così chi cucina è molto più allegro! È felice, è felice, certo! E io non ho... Sono le decorazioni più carine che abbiamo trovato e mi sembra che ci stiano anche bene, dai, dando l'idea di festa, di un qualcosa di gioioso! Non è male! Allora, no... Che cos'è questo? Su questo tavolo, servi il cibo a Diana, faccio servire tutto! No, aspetta però, non è minimamente l'orario d'apertura, poi le cose vanno a male! No! Certo che vanno a male! Guarda che pellino imbandito! Oh mio Dio, è troppo carino! Bravissima, Diana! Subito, bravissima! E invece qua la fontana la riempiamo di succo di frutta, perché puntiamo ai bambini! Cioccolata mi sa di troppo elegante, poi capito, se i bambini li fanno mangiare troppo cioccolata esatto, rischiamo di stordirli e ci potrebbero denunciare! I genitori ti denunciano, guarda! Che carino! È troppo bellino! Bellissimo, bellissimo! Vedi, vedi, e tu non volevi neanche perderci un po' di tempo in questa inaugurazione, guarda com'è bella, guarda com'è si sta bene! Ultima domanda, prima di aprire dovremo cambiare l'abbigliamento? O ti piace questo casual così? Che dici? Non lo so, cosa gli possiamo mettere? Qualcosa di un... Magari per l'inaugurazione è giusto per quello? Allora, vediamo come sono messi! Ok, decidiamo in base a come sono messi! Tipo, formale... No, è troppo elegante, è troppo elegante, è troppo! Io diri da festa! Da festa? Ci sta, ma bellissimo! Ok, ok, mi sei piaciuto! E lei, vediamo un attimino... Il suo da festa è troppo carino, me lo ricordo ancora! Oh, sì, sì, molto meglio! Abbiamo fatto bene a cambiare anche i vestiti! Ho scelto bene, vero? Ho scelto bene! Sì, dai, almeno per l'inaugurazione li vestiamo bene e poi gli altri giorni li possiamo lasciare vestiti anche normali! Ma ovviamente non ci siamo dimenticati che... No, ci stavamo dimenticando! Non è vero, devi far finta di nulla! Ci siamo ricordati quando stavamo per aprire, è vero? Sì, abbiamo visto il nome, abbiamo fatto occidente, dobbiamo cambiare prima il nome del ristorante! Ovviamente prima di aprirlo, non è che lo puoi fare dopo! E sei quello che abbiamo scelto? No, prima io volevo ringraziare perché hanno commentato in tantissimi... Assolutamente! Sono stati davvero un sacco, davvero tantissimi nomi carinissimi! Ma abbiamo scelto quello più adatto per due motivi, ragazzi! Il primo perché è una tavola calda! E il secondo perché è sia carino come nome per una tavola calda, sia una minaccia per testa! Assolutamente! Dato che molti nomi sono stati minacce per testa, abbiamo cercato di combinare le due cose! Esatto! Comunque prima di dire il nome che abbiamo scelto, vorrei dire anche che è stato davvero difficilissimo scegliere! Perché ce ne avrete proposto tantissimi, tanto, tanto carini! Ci abbiamo messo una vita perché non sapevamo davvero quale scegliere tra tutti quelli! Esattamente! Vai, puoi dire il nome, ti lascio l'onore! Abbiamo scelto il nome proposto da Alessia che sarebbe Attenzione che scotta! Meglio di così, dai! Perché è una tavola calda quindi scotta e allo stesso tempo quando testa vuole venire nel nostro ristorante sente Attenzione che scotta e si spaventa! Assolutamente sì! È il nome perfetto! Secondo me ci sta benissimo perché va bene per entrambe le cose! Mettilo subito! Come si modifica? Penso di andare nella modifica dell'otto e modificarlo! Ho capito! È una cosa un po' complicata e certo cambiare nome e gestione è difficile, no? Guardate! Ok, abbiamo il nome e tempo di aprire ragazzi! Mezzogiorno abbiamo fatto un po' di ritardo ma siamo prontissimi quindi andiamo! Allora, di sicuro dovrebbero arrivare i dipendenti presto perché senza i dipendenti siamo... Arriveranno sicuramente prima loro! Abbastanza fregati! Chi è? Salve! Vuole venire nel nostro ristorante? Come si chiama? Come si chiama? Dominic Fires! Fires! Ah, ci dice pure i club a cui fan parte, consoli della console, questo è un nerd! Eh sì, non DJ secondo me! Secondo me ha sentito che avevamo il canale, magari seguiva il canale ed è venuto a mangiare qua proprio per quello! Adesso vedrai che passa dritto e ci fai una figuraccia! Ma perché? Ti sembra normale che sia lì fermo così? No, vabbè! Eh, sta prendendo il sole, ok? Potrebbe passare una macchina a rivestirlo! Ah no, ma mi sono accorto che ero io che avevo il gioco fermo! Ma non finivi più di parlare, però quello continua a stare fermo, quindi a tua discolpa dico questo! È pericoloso! Se passa una macchina lo investe, eccolo, ok! Ok, appaiono dal nulla, bello! Questo qua è quello che avevamo... È Cracco! È Cracco! Ciao Cracco! No, ma perché così t'amarro? Poverino! L'abbiamo scelta noi questa divisa, sì, l'abbiamo scelta noi! Su Cracco sta malissimo! È bellissimo! Almeno così smetti di dire che è sexy! Vedi? No, è bellissimo! È bellissimo anche così! Guarda! Guarda! Poi lui è sempre contento, ti mette sempre allegria, sempre comunque! Quello è vero! Un po' al contrario di Masterchef che insulta sempre tutti, però almeno noi qua ce l'abbiamo sempre allegro! Guarda che carina! Guarda, è arrivata anche Giulia Ricci e infine lui da dietro, così all'improvviso! Perché è arrabbiato? Perché si è arrabbiato? Aspetta, proviamo ad andare a... Ma che problemi hai? E vai in bagno! Ahia! È arrabbiatissimo! Allora, proviamo a presentarci in modo amichevole tramite Stereniki! Ma spiegaci perché sei arrabbiato! Non aveva voglia di venire a lavoro forse oggi? Guarda, 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 guarda! Ci sono già i primi clienti! I primi clienti! Lascia Stereniki a parlare l'imbagno col cameriere che non va visto arrabbiato, assolutamente! Metti Diana a parlare con qualche cliente, magari con questa ragazza! Si fagli un attimino ad entrare, poverini, non sono neanche arrivati! Giusto per presentarsi e non lasciarli a se stessi! È già sceso a due sec... Perché? Sentiamo? Il personale potrebbe essere più cordiale! Dobbiamo sgridare subito questa Giulia! Allora, eh... Critica! No, aspetta, c'è qualcosa del genere! Critica! Non vorrei criticarla davanti agli altri! Quindi, per ora, lasciamo correre! Ok? Allora, se si lamenta qualche altro cliente, la sgridiamo! Esatto! Facciamo così magari un caso anche quel cliente, un po' di malumore! Comunque andiamo a parlarci noi, che magari è contento che gli stiamo dando un po' di attenzione! Brava, brava! Infatti, mandiamo subito Diana a chiacchierare un pochettino! Guarda, che carina come Ducati! Ah, t'hai visto! È stata bravissima! È stata bravissima! Ha subito fatto tornare tranquillo! Infatti, guarda... Dobbiamo sgridare questa Giulia! Non mi piace questa direttrice di sala! Non mi piace! Ce la vedo bene, Diana, a fare lavoro sporco e a sgridare! Quindi vai, Diana, criticala! E falle capire che così non si può arrivare! Guarda che alla prossima la licenzio, ti dico la verità! Cioè, io non perdono, non perdono perché ci fa perdere... Ci sta facendo perdere! I clienti gli sta facendo mettere il malumore, ma scusami! No, sì, è davvero... Guarda! È fattivissima, Diana! Non perdona come me, vedi? Hai capito, Giulia? Perché sei così severa con me, signora anima gemella? Sto facendo del mio meglio! Perché? Perché ti ricordi, l'avamo chiamata Diana anima gemella! In effetti non abbiamo pensato a cambiare i cognomi! Sì! Non importa, non importa! Dettagli, dettagli! Comunque, attenzione! Primo piatto! Lo sta servendo al nulla! Per di più non c'è nulla! Non c'è più il cliente! È sparito! Dov'è finito il cliente? Ecco, lo sta tornando! Dov'è ritorna al tavolo e si trova tutto servito, tutto perfetto! Dai, dai! Mangia che sarà sicuramente buono! Guarda, non gli piace! Non gli piace! Ma l'ha fatto coso? Cracco! Dovresti essere... Cracco dai! ...onorato! Ha ordinato comunque il formaggio grigliatto e del caffè latte! Molto interessante questa cosa! Iniziamo a vedere anche le scelte dei clienti! Esatto! I piatti che piacciono di più! Esatto! Così puoi fare i piatti del giorno, tutte queste cose! Terrenichi va qui ed offre una bellissima bevanda gratis al tavolo! No, il dessert! Il dessert è l'unica cosa che non ha... È vero! Perché la bevanda ce l'ha già, il cibo ce l'ha già, offriamo il dessert! Dai, come inaugurazione offrire almeno il dolce ci sta, ovviamente! Esatto! Il locale ha ottimi prezzi, hai visto? Eh! Abbiamo scelto anche bene i prezzi! Mi sembra giusto, dai! Ha prezzi davvero bassi per ora! Il cameriere guarda subito... Ma è ancora arrabbiato! Non ci posso credere! No, lo dobbiamo lasciar perdere! Lasciamolo perdere! Pazienza! Se si comporta male verrà licenziato pure lui, te lo dico! Ok, guarda! Tutta questa attenzione da parte titolare mi fa sentire davvero speciale! Ah, questo è Bjorn! Te lo ricordi? L'avevamo visto al ristorante di Craco qualche giorno fa! Vedi, stiamo rubando i clienti al ristorante di Craco! Ti ricordi? Era quello con cui Tina ci aveva provato, ma è sposato! Esatto! Ti ricordi? Li ritroviamo sempre, li ritroviamo sempre! Ed ecco che è pronto il cibo anche per loro! Attenzione! Ole! Dai! Mi sembrano felici! Mi sembrano felici anche questi... Allora! Uno patatine con salsa e l'altra l'insalata giardiniera! Ci sta, dai! Per quanto riguarda bevande, camomilla calmante e caffè americano! Magari è un po' stressata, si è presa un bel insalata, una bella camomilla per rilassarsi! Guarda altri clienti, ne stanno arrivando tantissimi! No, 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 occhio! Che succede? Che succede? Voglio vedere se questa volta di nuovo fa arrabbiare i clienti! Guarda, di nuovo, tutti e due che si lamentano, questa o quella lamentela e va a due! Mmm, non va bene! Sei secondo me cosa sta succedendo? Ok! Penso che non sia proprio capace a fare la direttrice di sala! Penso che dovremmo farle fare qualche corso se continua così! Craco? Craco, che cavolo stai facendo? Torna immediatamente a cucinare, Craco! No, stiamo perdendo... Dove sta andando? Non se ne è andato! Ma per... perché? Non lo so, ha deciso a che era ora di andarcene! Perché il cuoco ci ha abbandonato? E ora chi cucina, ragazzi! Per quale motivo ci ha abbandonato? Non lo so! Il lavoro è il lavoro, per me è solo uno strumento per ottenere risultati! Vedi perché è arrabbiato! Vedi, non gli piace lavorare qua, non gli piace, non se lo merita di stare nel nostro... nel nostro ristorante! Lo so, però non possiamo neanche licenziarli! Cioè, alla fine siamo un ristorante piccolo! È normale che dobbiamo prendere dei dipendenti che non sono proprio propriamente... capito? Ma che stai dicendo? È un maleducato e basta! È un maleducato! No, 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 no! Sei tu troppo viziata! Guarda, posso decidere di dare priorità a questo tavolo? Peccato che non c'è nessuno a cucinare perché Craco se n'è andato! Ma che succede? Io non ho capito perché se n'è andato! Non l'ho proprio capito! Stanno arrivando altri clienti! Come facciamo adesso? Vi ricordate quando vi diciamo che abbiamo un'abilità in atta nei baggari giochi? Ecco, ci siamo riusciti di nuovo! Applauso per noi di nuovo! Allora, allora, facciamo un recap di questa puntata perché davvero queste cose vanno sempre sottolineate! Sì, vai! Ci ha abbandonato lo chef e non c'è stato modo di farlo tornare e noi riusciamo a chiudere il ristorante! Cioè, fa un rumore strano quando lo fico! Esatto, io quando premo fa questo rumore! Posso premerlo 200 volte ma comunque il ristorante non viene chiuso! Anche se non ci sono più clienti! No, no, io a questo punto penso che, guarda, noi abbiamo una sorta di super potere! Proprio un potere magico che ci fa bagare qualsiasi gioco tocchiamo perché altrimenti io non me lo spiego! È nata malissimo! Comunque rimarrà aperto all'infinito! È nata malissimo! Cioè, così è davvero difficile! No, allora, è iniziata bene la giornata! E io ero davvero contenta del ristorante! Stava tutto andando bene! Esatto! Poi ci sono stati un po' di disastri! Vabbè, facciamo un recap della giornata! Dai, vediamo! Magari comunque Cracco se ne è andato perché non l'abbiamo ascoltato a sufficienza! Quindi... Magari gli dobbiamo far fare dei corsi a tutti! No, no, no! I corsi per migliorare? Ok! Ma secondo me dovevamo chiedere come va il lavoro! Lodarlo, capito? Un po' viziarlo così! Dici che vuole essere viziato! Sì, sì, sì! A prossima puntata proviamo così! Adesso guardiamo le recensioni! E poi ci fermiamo! Vediamo un pochettino! Magari ci hanno lasciato delle belle recensioni o qualcosa del genere! Non vedevo dove cliccare e non funziona più neanche questo! Non funziona più nulla! Oh, ok! Questo si apre! Questo non si apre più! Vabbè, comunque credo che ci siano tantissime... Ci hanno lasciato nove recensioni possiamo vedere solo quello e ragazzi abbiamo rovinato tutta la tabellina del ristorante! Ok, ci fermiamo così per questo episodio! Nel prossimo episodio cerchiamo di gestire meglio i dipendenti anche se non credo che fosse colpa nostra! Cerchiamo di iniziare a far andare un po' meglio il ristorante e recuperare tutte le recensioni negative che abbiamo preso! Soprattutto di sbagare il ristorante perché al momento è tutto bloccato ma penso che chiudendo il gioco si possa risolvere tutto! Lo spero vivamente! Comunque, prima di chiudere il video andiamo a salutare gli altri nostri sei eroi del giorno che per oggi sono Lulutm, Francesca, Lollibubble, The Leaking, Rebecca e Lester! Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione! Beh ragazzi, il video è felice così, se vi è piaciuto lasciateci un bel like! E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao ciao! Ciao!